Sì, è andato indietro o no? sembrerebbe che si possa estrarre indietro ma no c'è un saco che c'è un saco Siamo riusciti a tirare indietro, ah ok no, non così, sono passati così, un po' perché sono spiega. Ora non siamo sbattiti di là, vediamo se riesco a sbattere di qua, ah non c'è un pazzo. Sembra che lì ci sia qualcosa da bruciare, qua si fa, va beh ma non è cambiato niente, c'è siamo di qui per far che... Cioè era solo un pazzo così ma io qua non sono a passare. Alla prossima. Ah ecco qua. Non mi ricordo più ma secondo me quasi qui esplosevano con le bombe. Eh. E' quella di giocare un po' pezzi. Ma come ho fatto? Non hai detto che c'è la corrente? Tra l'altro ho disegnato ovviamente in modo spettacolare. Ma ho fatto a fare quell'animazione lì così. Per me è una digitalizzazione lì, hanno preso l'acqua vera perché è impossibile farla con i pixel. Gli facciamo andare perché mi sa che bisogna andarci da soli eh. E' troppo veloce. Ah si infatti poi il tratto ci va a spiazzare le bombe qua. Quindi ci siamo persi qualcosa. Io mi ricordavo appunto che esplodevano. Aspetta l'altro, torna indietro lì qua. Ok. Grazie a tutti. Adesso. Andiamo a passare di là. Quindi di nuovo gli scorsi separarsi. Dobbiamo farlo andare. Ah. Mi hanno fatto in tempo. Voi pare che andiamo nel qua un attimo. Qui c'è molto d'oro. Buon bachelato. Buon bachelo. Buon bachelo. Buon bachelo. Buon bachelo. Beh, noi possível. Perciò che l' Sustainability... Se appunto ci smetti un po' di giocare. magari ti dimentichi delle meccaniche, allora R praticamente, ma no, che affettidile. Stavo già per lamentarmi, il fatto che come facciamo tornare insieme, dobbiamo farli magari in giro. Ok, ok. Ecco, bisognava menare appunto quello grosso. Tutti li riempiono. Ok, spezza la menta. Ok, una aperta, sembrano risentivi, mi sembra, sembrano risentivi qua. Qua c'è qualcosa di altro, c'è una cassaforte, no? E là, come si fa? Ce l'hanno a demolire qualcosa? Ecco qua, ok, eccola qua. Per cento, di sale, wow. Niente, adesso andiamo a intitolare la... Talvezzo ti faccio cadere la cosa in testa. Poi un po' sono stato affermato perché di nuovo avevo i miei problemi di lucidità e buon... Giona così, in giona cosà. Ecco quanti fatti. Devo decidere di andare il più grosso. Un ciclino, un ciclino, un ciclino. Due c�cie sfruttandola del bilancio. Non ha male i vecchi darte che, però, poi abbiamo guardato nel menu e non c'entrava niente quegli scorsi. ok qua bisogna dividerci per forza come l'ho detto è ripartito la direzione su veda scusi scusi ok bene qua c'è una stefale tutta essa facciamo l'altra avviciniamo ancora un attimo di capire ste cose ma boh vegetale vegetale potrebbe essere vegetale carne e latticino ma non credo io ho già fatto il vegetale carne ho fatto il vegetale ho messo che ce lo facciamo un vegetale facciamo questo facciamo un uova non so se ce ne abbiamo tante che fa il pesce becco è la padella secondo me mi aiuta il ramen con le due pestelle guarda qua 2.000 questa è una bomba infatti infatti sembra che si fu quindi vegetale e carne e proviamo non so se ce l'abbiamo però quindi un vegetale ormai siamo finiti eh no abbiamo tutti i cibi così ma tutti c'è solo pesci vabbè aspettiamo l'età ripetiamo vabbè 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 Grazie a tutti Sembra Vieni qua che ti prendo sberlone Abbiamo trovato Un uomo d'oro Ok L'ho andato là Andiamoci Come facciamo? Poi le portiamo giù per quale motivo? No, no, no Aspetta, aspetta, aspetta Ovviamente No, 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 no Ah, si può Che va qualcosa qua Si può passare No, no, no In teoria non si può passare così Perché siamo su un livello diverso Graficamente Allora, anzi lo facciamo così Qui c'è un Ah, ok Fatto Ecco perché Anche questa è una roba da restentivi Cos'è lo zero Lo zero o l'uno Che c'erano le casse da sulle varie Con l'acqua Aspetta però Se ci oleviamo l'acqua Ma lo facciamo Può passare Allora, l'ora era tanto Valeva Era da rimettere a posto e basta E anche stamattina sto registrando Non è che sia Gormissima Ah, cavolo Mi dispensivo non andava avanti Anche era passato un po' di tempo Insomma Poi Tra l'altro Ne riprendolo Cioè Mi piace Il gioco come gioco Mi piace Quindi Sempre lì Ma So che è tutti i giochi Che io Ho iniziato Mi piace Non anche Poi siamo Un po' Lo facciamo Come non ci passa Scusate Sta andando malissimo 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 Facciamo portarlo Ci può portare anche In su Ma Non serve a fare Allora Così Mi sono fatto distrarre Da sta cosa Perché sto anche pensando Ad altro Perché non serve a niente Qui di nuovo C'è qualche pregio Posso andare fino a là Rischiare la vita Sta andando No No non si aprirà ecco di nuovo il disturbo allora qua c'è se ne apriamo qua ok non c'è poi si esplodevano con ho visto dopo che c'era un'altra qua non c'è Questa qua che... casino Ah Altro boss, ancora questo? Ho già visto il robotone qua. Esplodere! Ok, non ci ha fatto nulla. Ha riempito di boss, ha riempito di monster. Ok. Ok, il miasma sta arrivando al mercato. Ok, sembra che abbiamo fatto in tempo. Anzi, hai mai pensato a cosa potrebbe succedere se noi fallissimo questa volta? Ti prenderei e scapperei. La roba non può farcela col mio missile. Ok. E cosa direste se io ti dicessi che volessi rimanere? Ci prenderei comunque. Vabbè, botta in testa e via. Ok. Così sono fatta? Oppure in realtà sono fatta per questo? Nel senso cosa sei un android? Ok. Ok. Ah! Le chiuse delle fogne sono aperte adesso. Adesso rimane solo quella centrale. Allora. Eh... Forse devo andare. Io credo in loro. Come credo in te. Mi l'ha detto perché sennò hai detto qualcosa ma non ti fidi di me? Ok. Il sistema di raffreddamento è sotto attacco. Devo andare a guardare. Non ero. Non lasciare questa stanza. Mi hai sentito? Non voglio. Sì sì. Non lo farò. Non lo farò. Eh... Stai attento. Ok. Ok. Le fogne dovrebbero essere aperte. Ora torniamo indietro e controlliamo la chiusa centrale. In te, la tratta del solare a Мaira per fare. La tratta del solare a Maira per esempio. Non lo farò. Non lo farò. Non lo farò. Non lo farò. Un po' più santo. No lo farò. Non lo farò. Non lo farò. È divampato. Non lo farò. l'ha un fatto mister punk sonico non abbiamo aperto le chiuse dove sei in pratica perché se il mister punk sonico non è qui guarda la porta la porta si è aperta john insomma la chiusa centrale deve essere lì magari lui è già andato lì andiamo a vedere già però prima fammi salvare anzi siamo messi benissimo stiamo domandando se magari non c'era passaggio che non vediamo da l'ha bisogna separarsi no anzi non è ancora nella fogna appunto volevo approfittarne aveva stessa cosa facciamo ci vuoi cercare un attimo qui c'è un qualche infatti c'era un discorso di prospettiva che non si capiva bene ma era un sopra qua 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 non si è alzato qua 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 E' un sacco. messa il sistema di chiusa nel petto qui c'è un passaggio non si fa andare a prendere qua non saprei che qua sembra che manchi qualcosa un ascensore o qualcosa per segno credo che questo me lo perdo non siete voi ragazzi nessuna risposta deve essere John grande ok questa è la diga centrale c'è un pannello di controllo a livello più alto apritelo per rilasciare l'acqua e questo per tutti le chiuse una volta che sono aperte voi dovete essere capaci di attivare insomma il dio del vento messa anche allora non riusciamo a far passare l'acqua insieme ma come faccio si passa ma noi siamo di qua non siamo di là ok ok dobbiamo alternare buono buono sta benissimo l'acqua qua John e siete voi voi ragazzi se l'avete fatta la scusa centrale è aperta sapevo che ce l'aveste fatta